credo che i relatori possano salire forse facciamo i saluti prima noi poi noi lasciamo posto ai relatori il padrone di casa buonasera a tutti e grazie di essere qui a palazzo delle esposizioni per questo momento che in qualche modo segna anche diciamo un passaggio verso la conclusione di questa lunga avventura del rapporto fra pala expo e la quadriennale doveva finire molto prima a causa della pandemia ma anche grazie a uno sforzo congiunto che abbiamo fatto con l'istituzione della fondazione della quadriennale e noi siamo riusciti a prorogare la durata della mostra fino a adesso a questi giorni oggi credo che sia il terzo ultimo giorno se non vado errato e questo è uno dei motivi di soddisfazione che credo abbiano segnato questi questi mesi di lavoro non è facile non è stato facile e allora noi stasera presentiamo un libro mi permetto di fare un ragionamento forse che suonerà un po azzardato ma c'è una dimensione che credo questa mostra offra e che mi permetto di dire l'attività dell'azienda in generale sta tentando di promuovere che è l'incontro fra i linguaggi la creazione di spazi in cui diversi linguaggi dialogano e creano territori di possibilità nuovi naturalmente parlo dei diversi linguaggi artistici ma non solo e parlo anche del rapporto fra rappresentazione in realtà io ho assistito come forse alcuni di voi anche hanno fatto qualche giorno fa alla performance di michele rizzo è uno degli artisti presenti qui in mostra e anche quello è stata diciamo una delle piccole soddisfazioni di questo di questi mesi riuscire a presentare al pubblico seppure limitato seppure per due soli giorni questa performance il rapporto nel lavoro di michele rizzo fra la scultura proposta in mostra e le attività dei corpi diciamo dei danzatori di questa coreografia facevano un tutt'uno c'erano due linguaggi quello della scultura e quello della danza che si incontravano in un territorio che io ho trovato molto interessante e in qualche modo inedito nel senso che l'uno dialogava con l'altro senza essere uno causa l'altro effetto senza essere uno ispirazione e l'altro risultato erano veramente due elementi di una circolazione e qui e nella circolazione chiaramente il senso si si moltiplica circolando ecco questo tentativo di mettere insieme linguaggi di fare dialogare realtà e rappresentazione è uno sforzo che la azienda pala expo sta facendo scusate se faccio un po di pubblicità all'azienda me lo auto consento perché nelle nostre sedi in tutte le sedi si sta cercando credo di promuovere questo tipo di creazione di spazi di potenzialità al macro ieri si sono aperte due diverse diciamo sezioni della 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 nuova puntata del museo dell'immaginazione preventiva curato da luca lopinto e invito tutti a fare un passaggio anche lì al mattatoio c'è una mostra curata da anche moglie garzia del duo di artisti tedeschi prince golem anche loro propongono periodicamente delle performance che dialogano con i disegni in mostra in maniera simile in fondo al lavoro che appena citato di migliorizzo al mattatoio dal 20 al 30 luglio grosso sforzo organizzativo autorizzativo eccetera riapriamo al passaggio del pubblico gli spazi chiusi abitualmente chiusi per lavoro del del mattatoio di quel bellissimo complesso che è il mattatoio con una serie di eventi è troppo lungo ovviamente descriverveli però stanno tutti su questo libretto qua che se volete trovate all'ingresso e comunque trovate tutto anche sul sito mattatoio roma punto it perché ho fatto questo ragionamento perché il libro presentiamo un libro allora il libro noi siamo abituati noi almeno quelli della generazione un po più diciamo ag siamo abituati a considerarlo un oggetto che porta contenuto teorico io credo che negli ultimi anni il libro sia diventato un oggetto molto più fisico di prima proprio perché ce n'è di meno proprio perché è molto meno manipolato di prima proprio perché è molto più prezioso e raro il libro è un oggetto fisico è un oggetto di cui io credo dobbiamo riscoprire perdonate se mi butto in territorio un po curioso però dobbiamo riscoprire la sensualità dell'oggetto libro questo catalogo insomma ho pensato che ovviamente tutti i relatori parleranno dei contenuti io mi permetto di parlare della fisicità di questo oggetto pubblicato fra l'altro insieme ai miei due piani quello della del reale e del simbolico per usare termini non miei ovviamente quindi grazie di nuovo di essere qui grazie alla quadriennale sono veramente felicissimo di avere condiviso con Umberto con Ilaria con Sara con Stefano ecco tutto il team della quadriennale questi mesi di lavoro e è stato veramente nella fatica nello sforzo veramente enorme è stato molto molto bello grazie grazie presidente chi racconta la storia della quadriennale non può fare a meno di ricordare che una edizione della quadriennale si è svolta durante la guerra durante gli anni peggiori della seconda guerra mondiale ha avuto poi una sola interruzione in tempi più recenti e senza un contesto bellico io credo che la edizione 2020 2021 passerà alla storia un po come quella del 44 perché noi abbiamo voluto nonostante le avversità che si stavano annunciando e poi in pieno lockdown addirittura quando l'incertezza regnava rispettare le scadenze a tutti i costi oggi oltre la presentazione del volume è una sorta di finissage come ricordava Cesare fra tre giorni la mostra chiude e con alterni momenti è stata in piedi anche se non visitabile per lunghi periodi molto più di quanto previsto e però l'attenzione che si è sviluppata in tutto questo periodo è stata fortissima ovviamente io non ho nessun merito il merito va ai curatori e Sara Kosulic e Stefano Carol che io ringrazio veramente di cuore perché hanno prodotto uno sforzo con dei risultati che sono stati apprezzati da chiunque non solo dagli addetti ai lavori che stasera siete qua sostanzialmente ma anche da un pubblico più generico e questa è una cosa fondamentale cioè riuscire a far avvicinare a forme d'arte che per degli stereotipi vengono ritenute lontane dalla comprensione e invece captare la l'attenzione e anche la meraviglia il consenso di un pubblico molto articolato molto vasto nella sua composizione frutto questo lavoro io debbo specularmente ricambiare i ringraziamenti a Cesare Pietro Giusti presidente dell'istituzione che ci ospita e a tutto il suo staff al direttore Merosi a Daniela Picconi e a tutti gli altri che insieme a Ilaria della Torre e allo staff del quadriennale della fondazione quadriennale hanno si sono sottoposti a uno stress durato tra preparazione decisioni da prendere sul campo chiusure aperture e ora lo smantellamento che non è un altro scherzo si sono sottoposti a uno stress veramente notevole quindi è un finissaggio ma soprattutto è la presentazione in chiusura dell'evento di un prodotto editoriale che ha delle caratteristiche eccezionali per i contenuti come Cesare già detto per la profondità e la vastità degli interventi di riflessione non è un catalogo non è la rassegna delle opere esposte con didascalie è un volume di approfondimento anche questo che resterà nella storia e nella critica dell'arte ed è frutto anche questo di una collaborazione che è un po' il segno di questa fase della quadriennale cioè tutti quelli sia aziende grandi aziende pubbliche che privati che istituzioni che hanno collaborato alla riuscita sono state chiamate a divenire dei partner della fondazione quadriennale e così la treccani non solo la più prestigiosa e l'unica casa editrice pubblica del nostro paese è stata l'editore di questa di questo volume mettendoci molto del proprio ringrazio qua immagino che siano in sala le persone che nella redazione della casa editrice si sono impegnate al risultato che vedete ma è anche l'inizio di una collaborazione che già formalizzata attraverso un protocollo per cui la treccani diventerà resterà un partner editoriale per le iniziative che la fondazione da qua in avanti prenderà sapre appunto una nuova stagione per noi che sarà altrettanto impegnativa tra pochi giorni comunicheremo il nome del nuovo direttore artistico e cominceremo a lavorare ai due grandi appuntamenti quello della prossima quadriennale e quello del trasferimento nella sede del arsenale paolino a porta portesi dicevo la partnership con la treccani è frutto di un incontro con una sorta di entusiasmo reciproco col col suo direttore massimo brai il quale doveva essere qui stasera si scusa molto per aver avuto un problema dell'ultimo momento che gli ha impedito di venire ci ha mandato alcune righe che ora vi leggo e poi su questo vi saluto e lascio la parola a chi più degnamente si occuperà del contenuto della serata un impegno non previsto purtroppo mi impedisce di essere con voi in questa occasione così importante un'occasione per valorizzare l'impegno della quadriennale nella promozione soprattutto nella ricerca sull'arte contemporanea del nostro paese un impegno testimoniato dalla mostra che vi accingete a visitare e dal suo catalogo come treccani abbiamo sposato sin da subito il progetto affiancando la quadriennale nella realizzazione di un catalogo corposo e ambizioso che si propone non solo di illustrare la mostra corrente ma di costituire nel tempo un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per gli appassionati uno strumento utile per lo studio dell'arte italiana che coraggiosamente propone temi e percorsi di lettura innovativi sulle principali linee di ricerca della cultura visiva italiana il volume segna l'inizio di un percorso di collaborazione tra l'istituto della enciclopedia italiana e la fondazione quadriennale sancito da un accordo quadro che si inserisce all'interno del filone di interesse dell'istituto per l'arte contemporanea iniziato con la nascita nel 2018 di treccani arte ringrazio dunque i presidenti della fondazione quadriennale di palexpo umberto croppi e cesare pietro giusti la moderatrice daniela lancioni la quale a sua volta purtroppo non può essere qua per i curatori e tutti i relatori che hanno contribuito a mettere in luce il valore di questo progetto espositivo ed editoriale ringrazio anche tutti coloro che hanno reso possibile in tempi così difficili di piena emergenza sanitaria la realizzazione di un volume che speriamo possa avvicinare anche il grande pubblico italiano e internazionale alla conoscenza e all'apprezzamento delle nostre arti e dei nostri studi scientifici massimo brai grazie avevo in effetti dimenticato di portare appunto le scuse di daniela lancioni la nostra curatrice senior di palazzo delle esposizioni che spesso è diciamo dietro le quinte di molte delle nostre iniziative non vista per motivi familiari non può essere con noi stasera adesso passo la parola e lasciamo il palco agli vari uno due tre allora buonasera a tutti buonasera a tutti voi presenti qui a questa presentazione del catalogo della quadrennale d'arte 2020 fuori benvenuti anche a quelli che ci seguono via piattaforma e social benvenuti ai nostri relatori e grazie prima di tutto a cesare pietro giusti per questa introduzione e per ospitarci ancora una volta anche in questo momento simbolico insomma di di chiusura della mostra grazie a umberto per aver introdotto questa serata e grazie al protagonista anche di 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 questa serata e questa presentazione treccani che ci ha accompagnato nel percorso di produzione di questo libro di questa pubblicazione perché appunto andremo a raccontarvi proprio questa sera come si tratta di qualcosa che si tratta che si tratta di qualcosa che va ben oltre al al ad essere un catalogo di una mostra e trovo diciamo anche simbolico il fatto che abbiamo l'occasione di presentare la pubblicazione in chiusura di questa mostra si chiude sempre un catalogo pochi giorni prima dell'apertura prima dell'inaugurazione ora ci accingiamo a chiudere questo progetto che è stato così per tanti di noi così parte delle nostre vite quindi siamo anche un po almeno io personalmente sono molto emozionata a poter raccontare la pubblicazione e poterlo fare anche con autorevoli interpreti di questa nostra pubblicazione cui punti di vista saranno preziosi anche per poi partire lasciare andare questo libro al futuro e alle future interpretazioni di critici curatori studiosi sperando appunto che rappresenti uno strumento importante per l'arte italiana l'arte italiana è il soggetto della nostra mostra il soggetto di questa istituzione quadrennale d'arte la quadrennale d'arte è composta da un team di persone meravigliose che ci hanno accompagnato hanno accompagnato me e stefano in questa avventura e quindi ci tengo anche a fare un ringraziamento appunto non solo ad umberto ma anche a ilaria della torre direttore generale a tutti i nostri fantastici collaboratori di questa appunto di questa mostra e questa pubblicazione mi trovo in questo momento a diciamo unire due eventi a celebrare la chiusura della mostra e anche quindi a ringraziare tutti per quello che è stato questo percorso e appunto a celebrare questa pubblicazione la mostra fuori è stata veramente un po un percorso di vita per noi curatori almeno io lo dico appunto con grande emozione perché è stato un percorso di tre anni nell'arte italiana che ci ha portati ha portato me e stefano in giro per l'italia a organizzare tutta una serie di programmi dedicati agli artisti italiani abbiamo organizzato i workshop deep curated in diverse città italiane invitando artisti e curatori stranieri anche rappresentanti di importanti istituzioni e figure particolarmente attive nel mondo dell'arte internazionale che hanno arricchito la nostra esperienza di ricerca ci hanno permesso di affrontare approfonditamente diverse tematiche anche tematiche che spesso non sono state affrontate nell'arte italiana e tutti questi stimoli questi impulsi queste conoscenze questi dialoghi incalzanti appunto particolarmente intensi che abbiamo avuto negli anni che hanno portato poi negli anni diciamo di ricerca e di preparazione della mostra fuori abbiamo voluto in un certo senso anche omaggiarli e approfondirli in questa pubblicazione edita da tre cani tre cani fin da subito ha creduto nel progetto ringrazio appunto il direttore massimo brai ma ringrazio anche jacopo ceni e giovanna fazzuoli che hanno lavorato con noi intensamente a questo progetto e quindi appunto per raccontarvi questo percorso di ricerca di avvicinamento a questa mostra questo libro abbiamo proprio voluto insomma che questo libro questa pubblicazione rappresentasse un po' tutta la nostra esperienza e si aprisse anche al futuro diventando un possibile strumento di interpretazione e di rilettura dell'arte italiana così come insomma abbiamo voluto fare in questa mostra grazie a questo percorso questa mostra è un vero e proprio diciamo una vera e propria mostra selezionata con un gruppo tra virgolette ristretto di artisti rispetto alle passate quadriennali 43 artisti però proprio grazie a questa pubblicazione e grazie a tutti i progetti portati avanti negli anni questo percorso diciamo si trova arricchito e speriamo anche maggiormente motivato in quelle che sono state in quella che è stata diciamo la nostra le nostre scelte la nostra lettura che però ovviamente riflette un voler guardare alla storia dell'arte italiana e a ciò che viene prodotto oggi in un modo assolutamente allargato e aperto a nuovi sguardi nei ringraziamenti che vorrei fare ovviamente a tutto lo staff quadrennale che ci ha accompagnato vorrei ringraziare Alessandro Sagramora che è il coordinatore editoriale e che è stata una figura importantissima nella realizzazione di questa pubblicazione vorrei ringraziare i nostri due assistenti curatori Michele Bertolino e Matteo Binci di cuore perché insomma è stato un lavoro che difficilmente si può riassumere così in poche parole però insomma questa pubblicazione è un lavoro di concerto tra tantissime persone preziose che hanno partecipato nel ringraziare appunto nel passare tra ringraziamenti tra pubblicazione e mostra vorrei anche dire che ci sono istituzioni fondamentali nella realizzazione del progetto che sono non solo i nostri partner della mostra quindi importantissimi come Eni, come Intesa, come Gucci, Tim, Terna, Maeci che ci hanno portato fino a qui accompagnandoci ma anche alcune figure private come gli amici della quadrennale che hanno voluto sostenere il progetto, hanno voluto sostenere le produzioni degli artisti e abbiamo qui fra noi Giorgio Spanio e Nancy Olnick di Magazzino Italian Art che appunto ci daranno anche una mano nella promozione di questa pubblicazione che appunto proprio dedicandosi all'arte italiana vuole poter anche parlare dell'arte italiana all'estero e quindi grazie di cuore anche per questo sostegno Quadrennale, l'esperienza di Quadrennale è un'esperienza che si chiude con la mostra si apre con il catalogo abbiamo qui con noi appunto tre relatori importanti ai quali abbiamo con piacere insieme a Stefano lasciato la responsabilità di offrirci una loro interpretazione adesso lascerò la parola a Stefano per descrivere più nel dettaglio il progetto del catalogo e proprio rivolgendomi a Stefano vorrei dedicare in particolare a lui uno speciale ringraziamento come figura che ha disegnato il progetto scientifico di questa pubblicazione è un grande partner di questa incredibile avventura nell'arte italiana a lui va la mia specialissima gratitudine e quindi lascio anche a lui la parola nel introdurre grazie mille Sara per le tue parole ovviamente è stata un'avventura abbastanza unica e anche il fatto che tramite le nostre conversazioni e anche le nostre lunghissime discussioni siamo riusciti poi anche a dare vita non solo appunto alla mostra ma anche a questo catalogo quando ci siamo chiesti cosa volevamo anche lasciare di questa mostra ci siamo resi conto che proprio questi progetti Curated e Q International che Quadrenale aveva attivato dal 2018 forse andavano molto ad indagare la pratica artistica, la pratica curatoriale ma forse quello che effettivamente ancora non avevamo in un qualche modo coperto era la relazione più discorsiva con una riflessione sull'arte che potesse essere poi anche di interesse futuro e da subito quindi la pubblicazione l'abbiamo voluta pensare non tanto come il catalogo o semplicemente il catalogo della mostra ma come uno strumento che potesse essere utilizzato per riflettere sull'arte contemporanea italiana spesso infatti abbiamo l'impressione che manchi una connessione tra chi studia, chi scrive anche in ambito più accademico e chi invece produce e chi si occupa della diffusione e distribuzione dell'opera quindi anche tra chi l'arte la fa e chi l'arte poi la rende fruibile attraverso le istituzioni o gli spazi no profit quindi il catalogo ha iniziato a essere per noi un momento di fare un po' il punto non solo su quanto interessava a noi guardare o attraversare in questi ultimi 60 anni di arte italiana ma anche una sorta di momento per riflettere su quello che è stata la modalità di pensare quale possa essere in futuro la relazione fra un'istituzione che produce una riflessione sull'arte italiana e chi invece questa riflessione la compie proprio attraverso lunghi studi e quindi in un certo senso quello che abbiamo voluto sostenere e promuovere attraverso la richiesta a diverse figure di produrre dei nuovi saggi è stata proprio una volontà anche di riattivare quei contatti che spesso sembrano quasi mancare tra accademia, università e istituzioni e secondo noi questo era un valore molto importante della quadrenale di Roma che è comunque l'istituzione che ha questo unico percorso in Italia che da più di 90 anni fa la cronaca dell'arte italiana nel suo farsi quindi per noi era importante anche mantenere questa dimensione storica della lettura dell'arte italiana per questo che anche nella mostra poi ci sono queste figure che noi chiamiamo pioniere appunto che sono una decina rispetto a oltre la metà che sono giovani artisti e il catalogo poi da un certo punto di vista riflette anche come questa mostra e come questo progetto di tre anni si sia formato anche attraverso l'analisi e lo studio della storia delle mostre che sempre più diventa uno strumento non solo per chi studia storia dell'arte ma anche per chi vuole riflettere su dei fenomeni culturali che ruotano intorno anche in maniera tangenziale all'arte quindi la storia delle mostre d'arte contemporanea ma anche la storia delle mostre che non necessariamente erano riferite a arte contemporanea ma hanno utilizzato magari i linguaggi dell'arte o dell'architettura per noi è diventato uno strumento attraverso il quale anche riflettere su come fisicamente questa pubblicazione poteva compiersi quindi ci sono anche un po' di inside jokes diciamo se uno un po' vuole divertirsi nel capire un po' certi rimandi anche esperienze pregresse di esposizioni che sono avvenute da cui abbiamo anche voluto lasciarci ispirare per poter raccontare quello che è stato questo percorso di tre anni che come raccontava Sara la mostra è come se presentasse in una sorta di succinto momento perché ovviamente tramite i workshop di Churetti abbiamo avuto la possibilità di incontrare moltissime realtà e dimensioni e soggettività artistiche veramente interessanti che poi appunto nel progetto un progetto di mostra come tutti i progetti ha appunto compie delle scelte anche narrative o comunque di riflessione il catalogo è come se volesse un po' sparigliare queste carte cioè aprire ancora di più il discorso e a proposito di questo il catalogo si apre con una selezione di immagini che raccontano gli ultimi dieci anni di storia italiana quindi una sorta di introduzione iconografica che abbiamo voluto inserire proprio per raccontare un'Italia forse anche inaspettata, differente dove catastrofi ma anche momenti di gioia si sono assommati la decade per noi era un'unità di misura importante visto anche la storia che è stata fatta proprio rispetto a alcune esperienze di mostre e progresse come appunto quella che celebrava la decade nel 32 della rivoluzione fascista quindi ripensare a come invece una decade può essere complessa e anche stratificare le diverse sfaccettature della società italiana per noi era molto importante in questo senso tutta la mostra che magari può anche sembrare estremamente tattile fisica immediata nel risponso che richiede al pubblico in realtà è stata pensata proprio in maniera diacronica e sincronica quindi sia pensando a cos'è stato il passato della quadrennale cos'è stata la storia della quadrennale anche la storia all'interno di questo palazzo delle esposizioni e allo stesso tempo invece che cosa sta accadendo oggi a livello anche di discorso pubblico e di eventi e quindi questa sorta di introduzione iconografica proprio che termina poi con le ultime tre immagini che raccontano degli ultimi mesi prima della chiusura del catalogo quindi proprio quando eravamo in piena pandemia è stata una sorta di attraversamento appunto dalla successione del campanello fra Monti e Berlusconi quindi un po' la chiusura anche di un'era e poi anche l'apertura invece di questa che è stata una decada e che poi il 2020 in un certo modo ha fatto anche saltare abbiamo poi voluto individuare tre parti all'interno della pubblicazione la prima appunto dedicata alla mostra quattro in realtà, la parte della mostra dove ci sono una serie di interventi un po' di introduzione alla mostra ma anche di testi che possono spiegare punti di vista differenti in particolare quello mio e di Sara che raccontano più questo percorso all'interno di fuori e Alessandro Bava che è stato l'architetto che ha disegnato, progettato il display della mostra che ha raccontato anche qual è stato il suo percorso proprio tecnico, progettuale anche rispetto alle precedenti impressioni di quello che era stato il suo studio sul Palazzo delle Esposizioni e i suoi precedenti restauri e le precedenti mostre e Luca Scarlini che è storyteller raccontastorie ma anche scrittore critico che ha prodotto questa serie di interventi presenti nella piattaforma digitale di Quadrennale partita doppia e che ha potuto anche poi scrivere una serie di piccoli estratti che raccontano il suo viaggio iniziato ormai due anni fa all'interno dell'archivio di Quadrennale che per noi è stato di una fondamentale ispirazione anche grazie all'aiuto di Assunta Porciani che ci ha proprio condotto per mano attraverso tutti i documenti e anche i fondi differenti che sono presenti nell'archivio di Quadrennale e Matteo Bince e Michele Bertolino che sono appunto anche stati assistenti curatori Michele ha anche seguito i social invece hanno portato avanti attraverso i loro testi un'interessante analisi anche di come sia possibile guardare a una mostra con artisti contemporanei come fuori e collegarla a tematiche che attraversano la storia della Quadrennale quindi anche sottolineare come la Quadrennale ancora oggi sia uno scrigno di informazioni che deve essere continuamente anche rivisto come è un po' la storia del nostro paese come abbiamo voluto fare anche attraverso la mostra proprio perché associazioni inaspettate possono nascere anche da punti di vista o posture sulla storia d'Italia la storia dell'arte d'Italia la storia delle mostre e la storia della Quadrennale e quindi anche avere ben chiaro per noi è stato ben chiaro ed è stato anche bello poter avere questi due testi come l'archivio sia sempre un elemento vivo per un'istituzione fondamentale il continuo reinvestimento sulla non solo sua promozione ma anche la possibilità appunto di continuare a fare ricerche che devo dire che da questo punto di vista quadrennale è fantastica perché è sempre stato un luogo aperto alla ricerca e agli studiosi e alle studiosi che vogliono accedere non solo alla libreria ma anche ai suoi fondi e questo rispetto anche a quello che vi raccontavo di come volevamo rilanciare attraverso il catalogo questa unione tra chi lavora o si occupa di materiali più legati appunto a istituzioni e chi invece scrive e riflette sull'arte la seconda parte infatti del catalogo è dedicata agli artisti in mostra quindi ci sono dei brevi testi che introducono a chi è stato presentato in mostra è stata anche una bella occasione per a volte giocare con questi elementi testuali e da questo punto di vista per esempio Daphne Bogeri ha prodotto un testo per la sua mostra nella mostra che i Tomboyes Don't Cry hanno creato all'interno di quadrennale quindi è stato anche divertente poter a volte cedere la parola come curatori in un formato che forse non è così consueto di lasciare qualcun altro scrivere o descrivere i lavori presentati in mostra e la terza parte invece è proprio dedicata alla critica la parte della critica ha voluto essere una sorta di momento nella quale richiedevamo a critici d'arte alcuni inseriti all'interno di università italiane molti freelance oppure risedenti all'estero di poter proporre delle metodologie di ricerca che potessero essere utilizzate per offrire strumenti o punti di vista differenti su come guardare all'arte italiana che è stata una sorta di mantra per noi per tutti questi tre anni poter utilizzare proprio visto che la quadrennale ha questa sorta di incredibile storia e ha sempre questa relazione con il passato la mostra come un momento per supportare anche le giovani generazioni attraverso l'apertura di strade di lettura differenti di quello che è poi stata la lettura solita o canonica dell'arte italiana degli ultimi 60 anni per noi questo è stato fondamentale e quindi il passaggio della terza parte del catalogo è diventato fondamentale quindi abbiamo potuto avere Stefano Chiodi, Giorgina Bertolino Silvia Fanti, Daniele Gasperinetti Camilla Hawthorne, Francesco Ventrella e Riccardo Venturi li ho letti così, non me ne dimentico nessuno che hanno effettivamente ragionato e ragionato in tempi anche difficili perché comunque a parte il testo di Camilla Hawthorne che abbiamo ripubblicato e tradotto in italiano su appunto la ricerca della Black Italia gli altri testi sono tutti originali e composti durante i mesi di pandemia quindi anche senza avere accesso a biblioteche quindi anche questo è stato effettivamente un elemento che ha contraddistinto la redazione e la preparazione di questo catalogo e questo ci auguriamo possa essere uno strumento per giovani critiche giovani critici, curatrici e curatori ma anche artisti e artisti che hanno forse l'esigenza di vedersi raccontati oppure anche di raccontare quello che è il loro interesse il loro mondo anche in relazione a quello che è stato il passato della storia italiana e quello che ne sarà il futuro anche in termini di diversi tipi di metodologie oppure percorsi e spesso questo anche da persona che ha dovuto andare all'estero per studiare non è sempre così facile trovare nell'ambito anche italiano anche se fortunatamente adesso negli ultimi anni abbiamo potuto vedere anche tanti cambiamenti quindi ci siamo sentiti molto supportati nel percorso anche con altre istituzioni qui a Roma ma anche in Italia che stanno sempre di più aprendo questa lettura anche rilettura dell'arte italiana la terza parte del catalogo e poi concludo è quella dedicata a fare degli affondi alle tematiche di Curated che è appunto questa serie di workshop sei ne abbiamo fatti che in qualche modo avevano sempre ci hanno aiutato a mappare l'arte giovane in Italia ma avevano sempre dei tutor stranieri che erano specializzati in tematiche che secondo noi in Italia ancora poco erano discusse o comunque se erano discusse erano sempre discusse in maniera molto polarizzante quindi con grandi tensioni nel dibattito per cui volevamo invece cercare di portare appunto un nuovo tipo di approccio a queste tematiche e poi abbiamo commissionato per il catalogo invece a sei giovani critiche, critici, artiste e artisti italiani una loro lettura o prospettiva su queste sei tematiche quindi il primo workshop è stato l'artista come curatore e il curatore come artista e Daphne Boggeri che è un artista appunto anche che è all'interno del gruppo Tomboy's Don't Cry e presente in mostra ha riflettuto sulla mostra di Il Cangiante di Corrado Levi come esempio italiano dell'artista, architetto Corrado Levi ovviamente molto di più che crea una mostra e questo per noi era importante perché spesso ci siamo resi conto che mancano casi studio all'estero di esperienze italiane proprio perché magari a volte mancano anche i vettori linguistici per farli conoscere e essendo tutto il catalogo tradotto in inglese per noi era anche importante che attraverso questa sezione di curated si potesse offrire una prospettiva più appunto scritta da un'autrice un autore italiano non necessariamente critico, scrittore ma anche artista proprio perché volevamo un po' giocare in maniera seria ovviamente con la scrittura e le possibilità delle differenti modalità di scrittura e quindi abbiamo anche intervistato Lorenzo Pezzani sul tema della ricerca come la ricerca sia sempre più importante sia artisti e curatori Lorenzo Pezzani vive a Londra e lavora con Forensi ha creato Forensic Oceanography Vincenzo Estremo che ha riflettuto invece sul ruolo dell'immagine Lucrezia Calabro Visconti che ha approfondito il tema della performance Sofia Silva che è anche un artista una scrittrice sul tema della pittura infine Michele D'Aurizzo che è stato anche uno dei curatori della precedente edizione di Quadrennale d'Arte 2016 e che ha riflettuto invece sul tema del display che era l'ultimo tema che avevamo affrontato nel 2019 con il workshop di Napoli l'idea poi era proprio di voler creare una pubblicazione agile e su questo dobbiamo ringraziare di nuovo sia Quadrennale di Roma che Treccani che hanno accolto il nostro suggerimento per un libro che potesse essere leggero fisicamente anche oltre che seducente come appunto sottolineava Cesare prima e anche contenuto proprio nel prezzo in modo tale da essere anche raggiungibile da parte appunto dei più giovani delle più giovani generazioni e questo perché secondo noi è quello il ruolo di Quadrennale non solo mappare e capire cosa sta succedendo nell'arte giovane ma anche essere di supporto a quello che è la ricerca o chi inizia ad affacciarsi al mondo dell'arte italiana anche all'estero e anche in modo più o meno professionale quindi anche se c'è qualcuno di interessato pensiamo che questo possa essere un ottimo strumento ovviamente la parte della traduzione è stata anche un importante lavoro che abbiamo portato avanti perché ci ha permesso appunto nonostante le difficoltà delle tempistiche di poter proprio lavorare su questi elementi e quindi Lost in Translation in particolare Valentina Moriconi è stata responsabile delle traduzioni e Alessandro Sagramora poi si è appoggiato nel suo lavoro di revisione anche a Flavio Fellini che è qui in sala e che mi hanno appena presentato e la progettazione grafica poi è stata fatta da Dallas allo studio che ha anche realizzato la comunicazione della mostra e che per noi è stato anche importante perché comunque ci ha potuto seguire nella nostra volontà di creare un libro leggibile godibile ma allo stesso tempo anche bello da avere tra le mani e mi sembra di aver detto tutto Sì, io potrei appunto passare alla presentazione dei relatori che appunto abbiamo invitato a interpretare il nostro progetto volevo solo prima di tutto ringraziare ancora Stefano ma sottolineare due aspetti della pubblicazione e della preparazione di questa mostra la mostra Fuori è una mostra che non è nata prima nelle nostre teste è una mostra che è nata con quadrennale con l'istituzione con il percorso di ricerca quindi ancora di più questo percorso di ricerca il contatto con appunto curatori, artisti e il confronto con loro ci ha permesso di anche proprio capire cosa volevamo fare e ci ha permesso anche di portare avanti questa rilettura dell'arte italiana che abbiamo sentito proprio sostenuta proprio grazie a questo a questo confronto e questo dialogo quindi la possibilità di aver avuto tante voci con cui scambiare appunto opinioni fin dall'inizio e poi di aver avuto anche un grosso numero di critici, curatori che hanno contribuito con dei saggi in catalogo è stato assolutamente fondamentale per noi c'è da dire una cosa che appunto Stefano ha sottolineato l'importanza della traduzione in inglese di un contatto tra la nostra ricerca e il mondo internazionale proprio per portare questo modo di guardare l'arte italiana anche più possibile fuori purtroppo la pandemia ha reso difficile questo perché chiaramente ha limitato anche il numero di visitatori che hanno potuto viaggiare dall'estero siamo felicissimi grazie a Quadrennale e grazie appunto al prezioso contributo di Palazzo delle Esposizioni di aver potuto prorogare la mostra però è una mostra che ha vissuto un periodo complicato il periodo della pandemia e ancora di più quindi la pubblicazione diventa uno strumento fondamentale di promozione di queste idee e di poi possibilità di guardare all'arte italiana agli artisti che sono presenti in mostra ma anche ai tanti artisti tanti altri artisti che in qualche modo sono coinvolti in queste riflessioni in questi dibattiti che la pubblicazione affronta quindi appunto chiuderei la nostra parte diciamo lasciando la parola finalmente a chi questo libro l'ha potuto guardare leggere interpretare siamo ci sono tre rappresentanti che appunto diceva autorevoli anche perché rappresentano diversi ruoli insomma anche all'interno dell'arte italiana abbiamo Giorgio Di Domenico che è dottorando alla scuola superiore della normale di Pisa Cecilia Canziani critica storica dell'arte curatrice indipendente e Alberto Salvadori critico curatore e direttore dell'ICA di Milano quindi lasciamo la parola a voi penso che Giorgio ti fa piacere iniziare vi ascoltiamo grazie ancora molte per aver accettato di essere qui fra noi io sono molto grato al curatore e alla curatrice di Quadrennale per avermi invitato a riflettere su questo volume che appunto come si è detto è molto più di un catalogo con un tempo di frizione diverso rispetto a quello che è quello solito di un catalogo per l'appunto un'antologia sull'arte italiana contemporanea che ho letto per la prima volta prima di vedere la mostra e quando non era neanche chiaro se mi sarebbe poi stato permesso in quali tempi poter effettivamente vedere la mostra l'ho poi riletto dopo aver visto la mostra e questa modalità di fruizione così rallentata così diversa rispetto al solito mi ha anche permesso di apprezzare appieno quel grado di autonomia di ricerca e di indagine che è stato assicurato al catalogo appunto a questa antologia che corre parallela alla mostra e ne amplia gli ambiti di ricerca quando mi è stato chiesto appunto di provare a riflettere e proporre una mia lettura su questo volume che per forza di cose sarà una lettura parziale individuale molto orientata la lettura di chi vorrebbe fare lo storico e mi è sembrato naturale proprio in virtù di questo provare a misurare attraverso una serie di carotaggi che per forza di cosa sono parziali orientati quelli che erano i meccanismi e le modalità con cui la storia veniva utilizzata all'interno del catalogo la storia o le storie che funzionavano per raccontare un'altra storia quella appunto di oggi in un contesto peculiare quello italiano in cui come mette bene in luce Stefano Chiodi all'interno del suo contributo esiste ormai dagli anni 60 e anche prima un divario forte per certi versi anche preoccupante tra storia e critica d'arte e di riflesso tra critica accademia tra spazio appunto delle istituzioni e spazio accademico per cui appunto ho provato a mettere in fila una serie di letture che provino a misurare quali sono le tecniche per cui la storia le storie possono funzionare in questo modo e mi sembra di aver trovato sin dall'inizio degli appigli già nel testo di introduzione del curatore e della curatrice l'idea di ripensare il passato per guardare con occhi nuovi alla contemporaneità e alle sue urgenze l'idea di una rilettura dell'arte italiana dagli anni 60 ad oggi quindi provare a riflettere su questo concetto di rilettura in che modo funzioni quali siano effettivamente i meccanismi con cui veicolare una rifunzionalizzazione funzionale all'oggi di quella che è una storia e in questo un sostegno importante mi è venuto dal contributo di Sara Cosoli nel momento in cui cita attraverso Don Haraway una riflessione dell'antropologa sociale inglese Marilyn Strather ovvero quella sull'importanza di capire quali storie raccontiamo per raccontare altre storie allora appunto la mia idea era per provare a vedere quali storie vengono utilizzate dentro questa antologia per provare a raccontare un'altra storia che è quella una storia diversa dell'arte del passato ma che è anche una storia in divenire ovviamente quella dell'arte di oggi e anche il contributo di Stefano Colicelli Cagol mi è venuto in sostegno sotto questo punto di vista quando decide di evocare la storia per certi versi per eccellenza della Roma degli anni 70 e degli anni 40 quindi già con un esempio di riattivazione ovvero la storia di Dara Mundo la storia davvero raccontata da Elsa Morante nella storia e che offre un modello importante di riattivazione un modello di dialogo soprattutto tra quella che è una storia universale per forza di cose serrata completa e rigorosa e una storia individuale e quelle cronologie con cui si apre ogni capitolo di Elsa Morante che scandiscono il succedersi degli eventi storici prima di aprire a quelle che sono le vicende di Ida e della sua famiglia mi sembra che un po' funzioni come la serie di 34 immagini con cui si apre questo catalogo fissa lo sguardo in cardina per certi versi quella che è poi la vicenda che si racconta successivamente così anche la vicenda individuale che per forza di cose non può rientrare nelle grandi narrazioni all'improvviso appare ineludibile inevitabile e anche i sogni che dentro il romanzo di Elsa Morante sono così importanti comparati con quella storia così rigorosa assumono una forma di ineludibilità di peso che ci costringe a misurarli in maniera diversa per cui quello ovviamente l'aspetto anche di una storia che si chiama la storia ci impone di riflettere su come possiamo possiamo riattivarle e l'idea che presenta lo stesso Collicelli Cagol prelevata da Corrado Levi che abbiamo già già nominato quello di una diversa tradizione è forse la prima linea su cui la storia entra dentro fuori l'idea di provare a proporre con un'altra espressione una storia palpitante e violenta diceva Corrado Levi in un testo importante dei primi anni 70 che ripercorre anche Daphne Boggeri nel suo nel suo contributo l'idea di provare una storia opposta a quella che procede per avvicendamenti e per evoluzioni quindi una storia che riesca a recuperare quelle figure lasciate ai margini assicurando una nuova attualità è il caso evidente in mostra di molti di quelli che vengono definiti definiti pionieri il caso ad esempio di Lidia Silvestri che viene presentata anche in funzione delle riletture che possono avere le sue opere le sue sculture alla luce del dibattito queer contemporaneo questo ovviamente solleva per me storico una serie di interrogativi che mi assillano a prescindere ovvero sul modo in cui l'oggi influisce la mia rilettura del contemporaneo e la misura in cui questo tipo di rilettura e questo tipo di riattivazione può essere legittima e rispettare l'oggetto e c'è una frase che mi ha molto colpito nel catalogo di Caterina Marcenaro che era la sovrintendente la capo dell'ufficio di Belle Arti del Comune di Genova nei primi anni 50 mentre Albini riallestiva le collezioni civiche e con una dichiarazione afferma la dichiarazione raccolta nel contributo di Michele D'Aurizio nel catalogo afferma il passato può prendere vita solo perché ne fraintendiamo le ragioni e questo naturalmente è un segnale importante una frase molto forte da parte di Caterina Marcenaro che fa riecheggiare un'altra gemma anni 50 incastonata dentro questo volume che sono i due versi di Laborintus della tredicesima sezione di Laborintus di Sanguinetti con cui un altro dei pianieri importanti Eugenio Battisti apre l'antirinascimento o incanto universale del valore ogni storia è una generazione equivoca dell'ispezione per cui raccogliamo con Sanguinetti e con Marcenaro due ere semantiche quella del fraintendimento e quella dell'equivoco che sembrano quasi condizionare inudibilmente le possibilità di riattivazione oggi e di rilettura del passato e quindi pensare che per forza di cose il passato deve essere riattivato soltanto in virtù di un equivoco o di un fraintendimento può essere spaventoso però credo che il catalogo dia molte risposte e molti esempi di possibilità di riletture quelle che Calvesi è un altro dei pionieri evocati da Giorgio Indiamertolino chiamava ristorie tanti esempi di ristorie che non temono l'equivoco il fraintendimento ma che invece funzionano rimettendo in circolo e in funzione dell'oggi rispettando il passato quelle che sono state vicende significative un esempio importantissimo molto efficace che ho trovato davvero illuminante è quello del contributo di Francesco Ventrella battuaggio e metodo quindi con questo invito a una storia dell'arte fuori dalla storia dell'arte un invito a battere nella storia dell'arte e quindi a impossessarsi di quelle metodologie della tradizione queer che tendevano a cercare una genealogia nel passato non c'era paura di fraintendimento non c'era paura di equivoco l'importanza di creare una comunità anche fittizia nel passato rispondeva a quella che era una tendenza individuale personale di costruire storie appunto ristorie che potessero funzionare proprio in funzione dell'oggi ed era una modalità di fruizione di approccio così potente con precedenti così illustri con motivazioni così intime così dirette che credo valga la pena portarla anche dentro la storia dell'arte e non lasciarla soltanto fuori come spesso purtroppo succede ed è una modalità di fruizione uno dei primi canali con cui la storia entra e viene riattivata all'interno del catalogo che credo si rifletta anche nel saggio di Michele Bertolino con quelle storie tutte diacroniche di esperienze transgenere che appunto non temono l'equivoco il fraintendimento ma riescono a creare una comunità trasversale e universale e poi un altro filone parallelo importante che è quello della riflessione sulla storia complessa come la definisce Matteo Vinci della prima mostra internazionale d'arte coloniale tutta la riflessione che viene fatta sia a livello del catalogo sia a livello di molte delle opere presenti in mostra come quelle di Decolonizing Architecture Art Residency su quella che è stata la vicenda coloniale italiana una storia che appunto è stata rimossa è stata rimodolata è stata rinarrata è stata ristoria ma che più di ogni altra forse si è restituita alla sua complessità alla sua dimensione agisce in maniera diretta sull'oggi e soprattutto lo fa nella maniera migliore in cui può farlo una storia ridando il giusto peso a quelle che sono state le responsabilità e le vicende di una comunità nazionale naturalmente anche la proposta in mostra di altri due pionieri importanti di Ervan Janikian e Angela Ricci Lucchi insiste su questi temi e su queste vicende mettendo in campo un altro grande filone forse il terzo all'interno del catalogo che è quello dell'archivio giustamente lo educava anche Stefano poco fa l'archivio della quadrennale ha questa dimensione questa totalità si nutre della storia dell'istituzione che è una storia gloriosa ricca complessa e così legata a doppio filo a quelle che sono state le vicende del paese e questo archivio può essere rifunzionalizzato lo fa Lucas Carlini appunto nel suo almanacco che non vuole essere comprensivo ma che proprio in questa dimensione di recuperare storie minime restituisce un affresco forse anche più più diretto di molte cronologie dettagliate di quello che è stato quelle vicende ma è un archivio che viene riattivato anche da Lucrezia Calabro Visconti che proprio da un frame video dell'inaugurazione della quadrennale del 1931 ispirandosi alla presenza della regina Margherita mette insieme una storia convinta e convincente che agisce sulla politica sulle modalità di sciopero sulle possibilità e le modalità di sciopero attuali ma anche sulla critica per cui di fatto proprio nelle letture nuove di opere contemporanee di Chiara Fumai e Giulia Crispiani per cui di fatto un archivio che torna ad essere attuale nella misura della nuova narrazione della costruzione appunto di un almanacco ma anche di una possibilità di azione diretta come suggestione immaginifica di quello che è un materiale imprevisto che inevitabilmente oggi senza paura dell'equivoco e senza paura del fraintendimento possiamo riutilizzare per cui insomma tutti questi erano tre filoni davvero molto parziali nel catalogo c'è molto altro di esempi in cui la storia viene riutilizzata rifunzionalizzata messa in campo e sono tre esempi appunto che dimostrano come questo catalogo sia come è scritto sulla quarta di copertina un'antologia sull'arte italiana contemporanea un'antologia che è per forza di cose raccolta di storie ma che in greco anche raccolta di fiori e non sono soltanto i fiori di campo che Sofia Silva cita nel suo contributo che sono l'esempio cogente di come molto spesso la storia non riesca a intercettare i fiori di campo quei percorsi soprattutto in particolare la storia dell'arte ovvero quei percorsi eccentrici selvaggi che non riescono a inserirsi in un percorso condiviso nelle grandi direttive sicuramente sono anche quei fiori sono quei fiori sfuggiti alla storia però per chiudere mi piace recuperare anche per ritornare alla storia di Elsa Morante recuperare la frase con cui si chiude la storia di Elsa Morante che è una citazione da una lettera della matricola 7047 della casa penale di Turi quindi Antonio Gramsci che scrive alla mata tutti i semi sono falliti eccettuato uno che non so cosa sia ma che probabilmente è un fiore e non un'erbaccia ecco mi sembra che il catalogo possa offrire a chi fa storia l'esempio di una modalità storica che riesca a salvare certi semi eccentrici appunto certi fiori selvaggi e che una volta salvati possono rivelare di essere molto probabilmente non erbacce ma appunto fiori grazie grazie Giorgio e passerei adesso la parola a Cecilia Canziani e anche per rispetto al tuo intervento poi volevo solo sottolineare che prima l'ho accennato quando ho detto appunto che il catalogo è un po' un'apertura infatti citava anche nomi di artisti che sono presenti all'interno dei testi che non sono in mostra e quello che abbiamo voluto dare alle autrici e agli autori era totale libertà nelle ultime due parti di poter proprio surfare attraversare l'arte italiana ma anche internazionale come meglio credevano quindi dando totale autonomia volevo solo fare questo inciso grazie Cecilia ecco adesso funziona grazie Stefano grazie Sara per questo invito e soprattutto perché ho potuto veramente leggere 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 il catalogo dovendone parlare l'esercizio di concentrazione è differente però venire dopo uno storico dell'arte vero dottoranda la normale è una strada impervia e mi vengono i complessi dunque il mio intervento in realtà è molto più spampanato meno strutturato ma per un eccesso di entusiasmo e tutto sommato anche perché un po' corrisponde in una certa misura al modo in cui io penso che questo catalogo sia nato io devo dire che raramente succede di essere felici quando si chiude un catalogo ecco la voglia di riaprirlo immediatamente rileggersi altri saggi o almeno a me anche se parte del mio mestiere dover leggere e dover studiare non accade così spesso né mi accade di riempire meno di lui però riempire il catalogo di segni segnalini e segnaletti o come Alberto di appunti che tu hai continuato a prendere anche mentre eravamo seduti lì e ora quindi questo devo dire che secondo me è una questa è la vera verifica di questo catalogo il fatto che fa venire voglia di continuare a leggerlo di continuare a approfondirlo e di continuare a rintracciare quei fili i conduttori che ci sono mi ha molto colpito quando Cesare Pietro Iusti ha aperto la giornata di oggi evocando la performance di Michele Rizzo perché anche io l'ho vista l'altro giorno con anche questo caso devo dire con grande felicità che è una parola che userò altre 120 volte nel corso di questo breve intervento perché secondo me è anche un segno di quello che è stata questa quadrinnale questa mostra arrivare oggi essere in presenza a parlare di questo libro festeggiare la fine della mostra con l'inizio di quello che sarà la vita di questo strumento mi ha colpito Cesare perché perché era proprio quella diciamo sovrapposizione tra i corpi appunto dei danzatori dei performer e le sculture era qualcosa di inedito ma era anche qualcosa che faceva rivivere di nuovo attivava in una maniera molto diversa estremamente diversa l'installazione che io ho guardato durante l'inaugurazione ecco per me ha risuonato quando hai iniziato a parlare ad aprire questa giornata con quell'immagine perché è una delle immagini io credo forti che mi porterò dietro di questa quadrinnale arrivata proprio alla fine e mi risuona molto perché in qualche modo sta tra quegli altri due saggi che appunto chiudendo il libro per me rimangono un po' come due indicazioni di metodo che secondo me sono così vicine al modo in cui avete costruito la mostra e così fertili qualcosa che veramente lascia un'onda lunga e sono due immagini completamente così due saggi che sono un po' nel mezzo e uno è sicuramente il saggio di Francesco Ventrella perché trovo che la diciamo la la metafora del cruising del battoage sia geniale geniale perché lui ci dice una cosa molto forte e lo cito lo cito puntualmente quando dice che battere nella storia dell'arte implica un esercizio di orientamento queer ovvero una riorganizzazione di ciò che viene considerato pubblico privato segreto rispetto alle storie dell'arte e quelle storie che si fanno con essa ovvero fare una lettura queer delle storie dell'arte fuori dalla storia dell'arte non significa promuovere uno sguardo differente su una narrazione già nota ma darci una seconda occhiata con la coda dell'occhio per cercare di coglierne i segnali di coloro che hanno vissuto queste storie questo guardare con la coda dell'occhio secondo me è un'intuizione grande ma non tanto perché sia solamente diciamo appunto uno sguardo che viene da un fuori uno sguardo che viene da una pratica ma perché è uno sguardo che ci ricorda che tutto quello che sta ai margini cioè fa un esercizio di metodo Francesco in questo modo ci obbliga a pensare che questo coda dell'occhio invece la dobbiamo riposizionare dal centro delle nostre letture allora non rileggendo o non guardando in maniera differente ma proprio cercando un'altra modalità di sguardo uno sguardo che sia completamente nuovo che ha una postura che è uno sguardo che è sicuramente incarnato allora io credo che questo tipo di indicazione rimanga fertile e preziosa in qualche modo secondo me riassume e ripercorre un po' tanti dei diversi sguardi di diversi interventi all'interno di questo catalogo l'altra è un'immagine che per me è stata vertiginosa che è quella del vortice che evoca invece Riccardo Venturi un saggio che ha una prima lettura e dice ma perché non parla di nulla di quello che c'è nella mostra ma agita le pagine e tira fuori questo movimento così inebriante di vento di polvere di corpo che effettivamente è tutto quello che questo catalogo secondo me fa cioè che cosa ci offre io penso che questo sia un reader che io userò moltissimo insegnando e parlando con studenti ma ma anche perché è una mappa mobile cioè quello che mi piace immensamente di questo di questo di questo libro è il fatto che non è un altro canone cioè non c'è l'invenzione di un altro o la sovrapposizione di un discorso ad un altro discorso è veramente una mappa mobile le parole alcune me le sono segnate alcune appartengono veramente alle pratiche dell'arte tipo tremolio per me per lo zuffi che non è in mostra ma per me è una presenza che comunque ritroviamo eccezione eccetricità margine libertà meravigliosa Sofia Silva quando parla di fiori di campo ma quando ne parla come diciamo una situazione di appunto stare accostati stare appartati è una grande possibilità no il cangiante il montaggio lo sfarfallio ne parla Vincenzo Estremo un altro saggio che devo dire sono tanti saggi che mi sono piaciuti molto però queste parole le ho trovate favolose così come anche Silvia Fanti con nelle guerre sparinetti quando parlano proprio di stare fuori come possibilità di reinventare di mettere continuamente in tensione Chiodi anche parla di questo cioè il fatto che si possa parlare di una storia dell'arte in Italia o ripensare la storia dell'arte attraverso una coda dell'occhio e una risonanza tra poli differenti ma non pensando che questa mappa poi sia per sempre ma immaginandola come qualcosa che ci va bene adesso poi potenzialmente invece deve essere rimessa in scena e mi piaceva un'altra immagine che mi ha continuato a risuonare sono le immagini scelte da Sara Kozulic invece per il suo saggio è un'immagine così semplice questo gioco di cui tra l'altro che ho giocato tanto da piccola di cui non sapevo il nome che si chiama il gioco del ripiglino il ripiglino che è quel giochino che si fa con le mani quindi quella cosa più banale che esista che però permette di continuamente scrivere e disegnare nuovi spazi cioè creare anche dei volumi un gioco forse che giocano che diciamo che prelude anche a modalità di pensiero che poi pertengono agli storici dell'arte e agli artisti ai critici e l'ultima immagine che per me rimane molto forte di questa quadriennale e che in qualche modo anche questa è un'immagine che alleggia tra il vortice e il respiro di Norma Jean un lavoro io penso un lavoro che forse se non ci fosse stata la pandemia sarebbe stato meno cruciale invece proprio quel lavoro che era sulla soglia quindi questa parola fuori che viene anche continuamente riarticolata all'interno del catalogo questo è bello le mostre quando si fanno prendere dalla coda o si fanno interpretare fuori in questo saggio viene articolato attraverso modalità sempre diverse beh il fuori per Norma Jean è proprio la soglia del palazzo ed è il respiro quindi come unire un corpo individuale con il corpo collettivo che poi sono le mostre dei dispositivi diciamo questa era un po' la mappa che sovrappongo alla mappa disegnata dal libro un'altra cosa che per me altre due cose che vorrei dire di questo rispetto a questo libro una che un'altra cosa che secondo me è molto importante è il fatto appunto tu lo dicevi prima lo puntualizzavi i saggi non sono stati commissionati con acclusa la lista degli artisti i saggi sono stati commissionati come un punto di vista sull'arte io penso che questo si senta molto perché permette una libertà di spazio di movimento enorme per cui ci sono artisti percorsi storie che non rientrano nella mostra e questo va tremendamente bene l'altra l'altra questione che secondo me è importante rispetto a questo catalogo è che in qualche modo con il suo pondus il suo peso lo spazio che occupa appunto un reader finalmente un reader tradotto finalmente è come se riagglutinasse una serie di pubblicazioni se le richiamasse a sé quindi di nuovo forse con la coda dell'occhio e con questa idea di riconoscersi quindi il numero di October sull'arte italiana che è stato importante che è stato anche molto dibattuto che però viene rimesso in gioco in questo contesto contemporaneo di Manuela De Cecco una pubblicazione penso che abbiamo un po' tutti e che abbiamo visto abbiamo riconosciuto già all'epoca come molto importante secondo me è ritorna attualizzata qui Geopolitica dell'arte dove Michele Dantini aveva già richiamato alcuni nomi che sono Anna Bravo Eugenio Battisti Enrico Crispolti Carla Lonzi e tanti altri quindi una mappa che diciamo ce la siamo raccontata ma che in questo caso trova una sua solidificazione una pubblicazione che però è stato prima di tutto appunto una sorta di un incontro di corpi che era sentimento nuovo ospitato dal mambo diversi anni fa di Davide Ferri e Antonio Grulli è stato un momento generazionale di riconoscimento e di articolazione su quello che cos'è la critica d'arte in Italia oggi quindi sì mi fermo qui perché avevo dieci minuti a disposizione e penso di aver detto un po' le cose che mi stavano a cuore magari forse sarebbe bello poi invece avere un po' di dibattito però principalmente grazie che serviva questo libro lasciamo adesso la parola ad Alberto Salvadori grazie moltissime Cecilia per il tuo contributo gli occhiali intanto grazie ovviamente per l'invito e per l'occasione che definirei estremamente ghiotta proprio intanto parlare per ultimo dopo tutti questi interventi non è così semplice però la ricchezza di questo volume lo permette lo permette io ho cercato di racchiudere in alcune parole e cerco di cerco di tarpare un po' la mia formazione da storico visto che un giovane storico dell'arte mi ha preceduto e tra l'altro abbiamo una formazione praticamente identica quindi come dire non facciamo questo gioco di speculare in questo libro a pagina 322 secondo me si racchiude un po' la chiave di volta di tutto sono estremamente felice che in un libro pubblicato nel 2021 ci sia un elenco di nomi che non sono nomi ma sono enormi personaggi sono dei grandi significati che esulano un po' anche da una narrativa sulla storia dell'arte italiana e sulla storia della critica d'arte italiana che reitera spesso diciamo dei percorsi battuti e ribattuti a pagina 322 si parla di un libro che per me nella mia storia personale ma credo nella storia di molti è stato una pietra angolare che è l'antirinascimento di Battisti questo perché mi ha portato per la prima volta da giovane a pensare che il canone dovesse essere sovvertito il canone potesse essere indagato in altro modo e che il canone contenesse tutte le potenzialità per essere infranto e la famosa accezione di una storia lenta e di una storia veloce lì prese come dire una sua forma vera e propria questa forma perché da Battisti in questo libro come dire si va poi a una delle due parole che raccolgono secondo me un significato importante che già quando visitai la quadriennale durante l'inaugurazione senti forte cioè come se questa mostra rappresentasse un momento importantissimo e lo rappresenta per me di una utopia storiografica cioè per la prima volta dopo tantissimi anni e devo dire non mi capitava da due esperienze che non ho vissuto in Italia ma ho vissuto a Cass nel 97 nel 2002 ho visto una mostra che mi portava fuori mi portava d'altrove mi portava anche su dei campi battuti ho avuto la fortuna di lavorare con molti degli artisti che voi avete presentato quindi mi sono sentito a casa per certi aspetti però ho sentito anche una grande energia in questo senso questa utopia storiografica poi ha tutta una serie di elementi cioè ci sono dei confini da attraversare dei confini da distruggere cioè ha messo in discussione anche il fatto che il confine è veramente forse un concetto che non ha più senso di esistere e quindi gli artisti come Alessandro Petti o Sandy Lal che sono più di 20 anni che lavorano dai tempi delle loro frequentazioni ai corsi di urbanistica a Venezia che lavorano su un concetto di distruzione di relaborazione di una stereografia del confine oppure Simon Forti che ha proprio a Roma ha cambiato radicalmente la sua posizione rispetto a cos'è la danza e canone della danza e lo ha fatto non guardando altri danzatori ma guardando degli animali in uno zoo nello zoo di Roma e lì stabilì quelle che lei testualmente mi ha detto quelle che sono delle strategie di comportamento di resistenza delle strategie di comportamento per rivolgersi agli altri e allora quello che poi nel saggio di Sara come dire la citazione di Don Arago e questo fare kin essere insieme costruire delle nuove modalità di esistere si vede che in una mostra così hanno delle radici profonde anche a più di cinque decenni fa come dire nel 68 in una visita a Roma oramai mitica perché poi Corsa Argentini successe quello che successe da questo incontro questi confini appunto che sono costantemente rimesse in discussione con come a Farrizzo per esempio il catalogo chiamato catalogo è riduttivo è veramente un reader cioè nell'accezione anglosassone cioè un libro che si consulta costantemente ha una forza in questo senso ineludibile e potrà essere utile perché porterà alla luce a chi non li conosce dei personaggi straordinari che sono stati delle pietre miliari come Raghianti o come Calvesi io cito semplicemente dei nomi che qui come dire sono stati presi in esame Raghianti come colui che ha fatto della critica militante anche una critica come dire una militanza civica e politica quindi vedere come anche la figura dell'intellettuale che gravita nell'ambito della storia dell'arte possa essere una figura di riferimento come De Resto a Roma è stato Argan oppure vedere come Calvesi con la sua ristoria ma in realtà Calvesi io lo sento anche per esempio nelle opere di Francesco Gennari Calvesi è stato forse il più grande interprete di quello che è il tema dell'alchimia cioè della trasformazione così indefinibile e indecifrabile cioè è un libro che è estremamente ricco che apparentemente nella lettura poi ci porta su dei piani che sono apparentemente inconciliabili uno legge per esempio in sequenza il saggio di Ventrella e poi legge quello di Riccardo Venturi e dice ma qui come mai si passa da una situazione meteorologica o da il più grande e leggendario incipit di un libro che è L'uomo senza qualità dove come dire ci mette di fronte alla necessità di sapere che tempo fa per poter affrontare l'esistenza non tanto la quotidianità e dall'altra si parla del battoage il battoage però ha nella sua possibilità di incontrare una meteora come dire una delle sue più grandi ricchezze cito semplicemente un'altra testimonianza di Silvano Bussotti quando più di dieci anni fa lavorai con lui mi disse sai che nell'88 quando feci una cosa per immaggio musicale con la regia di Derek Jarman la sera poi andavamo non tanto al ristorante o al bar ma a fare come dire delle gran passeggiate alle cascine e lì incontravamo quello che poteva essere qualcosa una forma di conoscenza nuova aver avuto il coraggio in un libro di mettere dentro questi temi e far sì che questi temi diventino dei soggetti di studio di indagine io credo sia un grande merito e quindi un appuntamento come la quadrinnale ha la forza in questo caso di dare a tutti poi uno strumento davvero di lavoro importante questo essere fuori fa parte anche di due persone che fino ad oggi non saranno mai state codificate tra virgolette come professionisti da un libro che sono Silvia Fante e Daniele Gasparinetti che iniziano tutta una loro attività completamente fuori e sono tuttora fuori dalle istituzioni e vedere quanto fuori dall'istituzione si possa creare davvero l'esperienza che poi nell'istituzione può essere come dire ulteriormente rivissuta e in questo senso allora le meteore di Riccardo Venturi incontrano costantemente i protagonisti di questi saggi questi protagonisti che poi hanno dei riferimenti apparentemente difficili da 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 accogliere però quando ho letto il saggio di Lucrezia Calabrovisconti e di Chiara Fumai ho pensato che nella mia testa senza aver letto l'antirinascimento sarebbe stato difficile trovare un flusso di riferimenti introvabili come diceva Foucault e come fanno parte di quella cultura totalmente battistiana non ci dimentichiamo che l'allievo maggiore prediletto di Battisti era Germano Celant quindi come dire si sta parlando davvero dell'ABC di una storiografia che è rimasta un po' indietro o sepolta o coltivata da pochi ma che questo libro fa riemeggere con grande forza il discorso su Carlo Alonzi che io non ho adesso né tempo per approfondire ma che molti di voi conoscono anche meglio di me però l'immaginerie fabiesca il lato potropaico dell'allegoria il meraviglioso cioè sono tutti strumenti formidabili e credo necessari per leggere una mostra e un libro come questo in questo senso si va anche a problematizzare e chiudo perché sono già nove minuti e si va a problematizzare anche un'altra secondo me limite che è stata il limite e anche forza della nostra storiografia e della nostra storia dell'arte che inizia come nel Cinquecento con Vasari trova un suo e poi tutta una serie di persone che dei baldinucci insomma qui non è che si fa ora la storia della critica però che Stefano Chiodi sintetizza benissimo c'è questo problema della frammentazione del modello di italianità allora mi chiedo io davvero è così necessario un modello di italianità se non ricostituirlo attraverso invece una molteplicità di possibilità di questa italianità e Chiodi in maniera molto sofisticata introduce anche qui un altro tema che noi questa mostra mette in crisi è il tema della conservazione di un atteggiamento conservativo Chiodi cita Manganelli Manganelli parla esplicitamente di dire che in fondo l'Italia non è un luogo da musealizzare dove vivono solo le statue come per dire che vivono le persone va vissuto questi luoghi vanno vissuti possono essere anche cambiati devono essere cangianti e questo ecco che si arriva Corrado Levi a questa necessità di non avere una fissità della rappresentazione in questo senso e chiudo penso che non so questo davvero questo libro e anche questa mostra mi hanno fatto davvero pensare a qualcosa che ha a che fare con la linguistica cioè con una forma di linguistica cognitiva cioè non tanto una forma un percorso una rete di conoscenze dove nel quale ogni enunciato discorso e tutti all'interno ci sono delle modalità che costruiscono queste reti ma queste reti non sono mai fisse queste reti sono mobili in continua trasformazione è per questo che allora è bene essere tutti fuori grazie 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 mi fa mi fa mi fa molto piacere i vostri interventi e devo dire che ascoltandovi ho avuto la sensazione che stessimo parlando voi stesse parlando di un di un catalogo fuori di un catalogo indisciplinato l'ho notato con il discorso di Giorgio sull'equivoco e il fraintendimento l'ho notato con il discorso di Cecilia che si soffermava appunto sull'idea della coda dell'occhio o anche il fatto che il catalogo potesse riflettere il lavoro di artisti che non sono in mostra sono tutte forme di indisciplina in un certo senso rispetto a quello che è normalmente un catalogo classico e l'ho notato anche appunto nel discorso che bene ha fatto Alberto citando questa idea del canone i riferimenti indisciplinati nei testi di alcuni autori che hanno scritto nel catalogo e chiaramente questo confronto indisciplinato con l'idea di italianità che è un punto che appunto non sempre abbiamo sottolineato ma avete visto in mostra anche dalla lista degli artisti come in un'istituzione che è dedicata all'arte italiana abbiamo voluto proprio uscire un po' fuori anche da questa definizione di italianità quindi grazie molte perché insomma in qualche modo è una conferma di questo nostro essere fuori e voglio ancora forse dire una cosa che abbiamo dimenticato nell'introduzione abbiamo parlato di questo processo di ricerca di tre anni abbiamo parlato dei workshop di curate del confronto con tanti curatori internazionali eccetera però non abbiamo abbiamo parlato dell'archivio di quanto importante è stato l'archivio di quadrennale l'esperienza di quadrennale per la nostra ricerca ma forse non abbiamo parlato abbastanza di quanto le esperienze di tanti curatori italiani storici dell'arte critici come voi quindi anche le esperienze che hai citato Alberto nell'aver lavorato con diversi artisti in mostra o come appunto è capitato anche a Cecilia eccetera quanto queste vostre esperienze le mostre che sono state fatte sull'arte italiana e le esperienze degli altri curatori critici che si sono confrontati con gli artisti italiani siano stati per noi fondamentali punti di partenza quindi anche per questo vi ringraziamo passo forse la parola a Stefano se ti fa piacere chiudere poi dopo magari possiamo anche aprire se ci sono domande dal pubblico se anche voi tra di voi avete delle riflessioni effettivamente una delle cose che questa quadrenale d'arte 2020 poi poneva era può essere questa una quadrenale d'arte visto che comunque il numero di artisti era così ridotto è tra l'altro la prima in cui ci sono più artiste che artisti per noi era anche importante e interessante però quello che per noi è stato questo percorso di tre anni che si è concluso poi anche proprio con questo l'ascito del catalogo era proprio cercare di immaginare un progetto che fosse non solo limitato alla mostra come poi era sempre stato perché comunque c'era anche una struttura differente all'interno dell'istituzione quindi il fatto che ci fosse una direzione artistica ha permesso di riarticolare l'istituzione ripensarla proprio come se fosse attivata in diversi campi in diversi momenti e quindi questo ci ha dato la possibilità di produrre molti contenuti sull'arte italiana giovane che sono disponibili online nella sezione di curated nel sito della quadrennale ci ha dato la possibilità anche di guardare attraverso Q International quindi questo fondo per istituzioni straniere cosa all'estero in questi tre anni è stato guardato cosa interessava dell'arte italiana e di nuovo anche questo è stato processato e anche documentato all'interno sia del sito ma anche dei social della quadrennale e quindi l'apertura che abbiamo voluto dare anche a chi ha scritto in questo catalogo per creare anche dei percorsi all'interno dell'arte italiana che non erano necessariamente evocati o puntualizzati all'interno della mostra per noi è stata fondamentale per questo per noi la mostra è stata sempre un percorso un momento di questo che parlavamo che abbiamo sempre inteso come una sorta di progetto a vasi comunicanti dove le tre Q che ci hanno accompagnato dal 2018 al 2020 quindi Q-Rated Q-International e Q-2020 la mostra erano sempre dei progetti che si sostenevano uno con l'altro e aumentavano e davano respiro e ossigeno uno con l'altro per questo anche abbiamo potuto avere meno persone anche incluse numericamente all'interno della mostra perché sappiamo che avevamo fatto un grande lavoro anche di rappresentazione in altri ambiti e questo catalogo ulteriormente rilancia e apre a altre visioni altri percorsi che per noi sono stati fondamentali e ci hanno proprio nutrito come diceva Sara perché comunque è stata un'esperienza che ha potuto accogliere anche le autrici e quegli autori che sono stati ricordati da tutti e tre i relatori e che appunto anche Cecilia sentiva risuonare queste pubblicazioni che sono state così fondamentali contemporanee di Emanuele De Cecco penso che Emanuele De Cecco sia stata la prima nel 2002 a parlare di Donna Haraway e di Conoscenza Situata quindi che è stata per noi anche un elemento importante e di sicuro nel 2002 in Italia non era così scontato che qualcuno parlasse di Donna Haraway quindi ci sono state veramente delle pietre miliari che sono in un certo senso state evocate sia per la mostra che per il catalogo e non da ultimo appunto Antirinascimento che è un libro favoloso purtroppo introvabile quindi si può trovare solo nelle biblioteche speriamo che presto qualcuno lo ripubblichi perché è incredibile che appunto manchi nell'editoria italiana la disponibilità di un testo fondamentale proprio per ripensare anche quella che è stata la tradizione che viene continuamente rimandata e anche sì una figura come Corrado Levi e Carla Alonzi sono stati interessanti per noi da avere proprio ospiti all'interno del catalogo perché ci rendiamo conto che dal punto di vista proprio del discorso e della divulgazione c'è ancora molto da fare mentre in Carla Alonzi penso alla bellissima mostra anche che è stata fatta la Gnam di cui appunto abbiamo qua due curatrici oggi poneva anche sottolineava appunto l'importanza ma anche una figura che di sicuro continuerà su cui si continuerà a dover tornare mentre Corrado Levi che è stato presente nella precedente quadrenale e anche ha avuto una importante retrospettiva alla triennale di Milano abbiamo pensato che fosse importante anche infatti ritorno in diversi saggi sottolineare la sua importanza anche come teorico ma anche come qualcuno che ha movimentato effettivamente a proposito di Meteore la scena artistica italiana e non solo artistica ma anche culturale il titolo infatti evoca non solo il desiderio di uscire dalla nostra quotidianità di lockdown mentre preparavamo la mostra che quindi ha veramente messo alla prova i nervi di tutti e anche il wifi di tutti perché ovviamente erano continue e ininterrotte zoom call con anche lo staff favoloso del palazzo delle esposizioni che si è armato di santa pazienza con noi oltre che quello di quadrennale ma anche proprio è stata la necessità di non solo appunto questo titolo che richiamava il fuori e i passaggi indisciplinati attraverso le varie discipline ma anche la narrazione dell'arte italiana ma anche posizionare il fuori come movimento il fronte unitario di liberazione omosessuale che è stato così fondamentale anche il fronte unitario di evoluzione omosessuale italiani che è stato così fondamentale negli anni settanta e che nasce proprio con delle personalità fantastiche come Mario Mieli come Corrado Levi come anche Ettore Sozzas che insomma è proprio a casa di Ettore Sozzas e Fernanda Pivano viene pensato anche il titolo e cresce e nasce il movimento poi ovviamente Angelo Pezzana che abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare e quindi per noi era anche importante ricollocare questo momento storico che è stato così anche pieno di energia per le arti performative ma anche per chi vuole anche riflettere come appunto è emerso anche dalla proposta di Francesco Ventrella spesso citata appunto una postura differente siccome la mostra di sicuro da una postura queer femminista ha preso molto come anche dagli studi decoloniali quindi per noi è stato molto importante anche per esempio questo saggio di Camilla Hawthorne che abbiamo voluto ritradurre perché proprio pone secondo noi le basi anche per come poter pensare e riposizionarsi anche rispetto a una apertura anche a quello che è appunto un discorso che è sempre di più invece ha bisogno di essere affrontato anche a livello di istituzione di discorsi appunto di una differente modalità di pensare anche all'Italia e a quello che sono gli italiani e le generazioni di italiani quindi in cerca dell'Italia della Black Italia è un saggio secondo noi fantastico che c'è l'altro su cui abbiamo anche parlato con Francesco Ventrella che appunto ringrazio per la segnalazione e che penso sarà anche in futuro un importante contributo non so se poi avete altri commenti se no magari possiamo capire se c'è qualche domanda dal pubblico qualche domanda da parte vostra Maria penso potrà ripetere la domanda perché a causa del covid non si può parlare direttamente sul microfono volevo sapere il titolo perché vuoi come raccontavo adesso sono tre sì sì sono tre è una sorta di mantra e sono state tre differenti esigenze che abbiamo sentito quando abbiamo voluto presentare il titolo della mostra che è ovviamente anche il titolo della pubblicazione da un lato rispecchiava quello che è stato il momento che abbiamo vissuto l'anno scorso mentre organizzavamo la mostra di una sorta di necessità di uscire dallo spazio a cui eravamo stati confinati quindi con il lockdown il secondo era questa volontà anche di proporre una lettura a tutto to cure insomma anche con la mostra ma anche con il catalogo fuori dai percorsi dell'arte italiana soliti ma anche fuori dalle discipline quindi nella mostra ci sono artisti che hanno lavorato con arte musica danza design architettura teatro moda e l'ultimo appunto questo omaggio al fuori che è stato questo importante movimento che in qualche modo sottolinea anche l'importanza di ottenere altri tipi di o avere altri tipi di posture che hanno anche ricapitolato all'interno di queer studies o decolonial studies o feminist studies quello che è stato poi un importante nutrimento per noi prego che c'è il signore chiede se il catalogo dice qualcosa in più rispetto alla mostra se aggiunge qualcosa posso rispondere io al posto vostro perché se no è autopromozione l'indisciplina tra l'altro io prima ero senza mascherina ma scuso sì secondo me aggiunge io sono accorta che ero l'unica allora l'avevo rimessa secondo me aggiunge tantissimo e secondo me è proprio il valore del catalogo è questo nel fatto che di nuovo per giocare di nuovo con nome ci porta fuori dalla mostra e ci porta in altri territori cioè non è un racconto della mostra non è un racconto solo della mostra ma permette sia di riguardare retrospettivamente la mostra in un'altra maniera facevamo l'esempio prima di Cesaro per esempio anche per me il saggio sulla la mostra d'arte coloniale tenuta qui con le immagini che fanno vedere questo giardino meraviglioso ricreato all'interno degli spazi penso del sottosuolo immediatamente per me ha risuonato invece con gli affreschi di Amedeo Polazzo che hanno avuto per me hanno avuto in quel momento un'altra lettura ma perché ho letto il saggio o perché le immagini che erano a corredo mi hanno hanno fatto un cortocircuito di nuovo diverso e inaspettato quindi secondo me proprio fa questo ci fa muovere di nuovo fuori della mostra per riguardarla ancora oppure semplicemente ci dimentichiamo anche un pochino la mostra e ci portiamo a casa un bagaglio metodologico differente secondo me questa è una cosa proprio preziosa insomma il non racconto racconto ulteriore scusate se vi ho allora possiamo concludere ringraziando grazie a tutti voi che ci avete seguito grazie di cuore ai relatori per aver partecipato a questo progetto grazie a tutti coloro che hanno reso questa mostra e questa pubblicazione possibile grazie al a quadrenale di Roma al meraviglioso staff è un momento anche molto emotivo perché si chiude la mostra si chiude un periodo che è quasi un periodo di vita per me e per Stefano quindi con il cuore veramente vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini non solo ci hanno supportato ma veramente sono stati preziosi sono dei tasselli di questa mostra impossibile nominarli tutti ma voi lo sapete quindi un grande abbraccio veramente a tutti a tutti voi grazie a Stefano grazie ancora a Cesare Pietro Iusti e a tutto il team di Palazzo delle Esposizioni ci auguriamo che sia stata anche per voi una bella avventura per noi rimarrà nel nostro cuore per sempre grazie a tutti e grazie Maria Bommassara ciao adesso facciamo un po' di visita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti